buongiorno a tutti sono danny dj quest'oggi il matrimonio si dividerà in quattro momenti importanti inizieremo dall'aperitivo con un sassofonista che rietterà il momento dell'accoglienza ospiti subito dopo passeremo in sala dove c'è la barrio band ed ancora il momento della torta nuziale all'esterno magico con l'atmosfera natalizia subito dopo passeremo in una terza location per il wedding party il fine festa arricchito dal trio di savio vurchio savio vurchio con il mio dj set è una sorpresa per gli sposi il matrimonio di oggi sarà ricco di musica spettacolo e animazione tutto sarà suddiviso nei vari momenti aperitivo pranzo torta e post festa ogni singolo artista ogni formazione avrà il suo spazio uno spazio per la musica live uno spazio per il dj se uno spazio per l'animazione e molte volte la musica live incontra si fonde con il mio dj set state a guardare sotto sotto la musica live uno spazio per iановi spazio per iановi subito per iановa sincronito per iановi Grazie a tutti.